Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono in una nuova postazione, no, semplicemente ragazzi, solo quasi in fase di inizio della mia routine mattutina relativamente all'allenamento, sono in casa, sono in quarantena quindi cerco di fare un po' di allenamento a casa ragazzi perché purtroppo fuori non possiamo andare anche se oggi in realtà il tempo non è buono quindi non sarei potuto andare a fare la mia corsetta mattutina oggi era previsto un video diverso di quello che uscirà ragazzi quindi questo video lo sto registrando in corso d'opera durante la mia fase di allenamento, ora ci sposteremo anche sui grafici, vedremo tra un poco perché volevo parlarvi di quello che è successo ieri relativamente al prezzo del petrolio, è stato un evento unico ragazzi abbiamo visto il future del prezzo del petrolio diventare negativo, uno strumento finanziario negativo ragazzi è arrivato a meno 37 dollari, meno 37 dollari, lo sottolineo, meno ragazzi, cosa significa? significa che se comprate quello strumento finanziario vi pagano 37 dollari, cioè incassate 30 dollari per prendervi il future, beh ragazzi allora a questo punto ne compriamo centinaia, no? perché è successa questa cosa ragazzi? perché se detenete quel future ovviamente per gli istituzionali non è per i retail e vi portano il petrolio, quindi voi dovete poi tenervi il barile proprio il barile ragazzi, vi portano il barile di petrolio e lo dovete detenere siccome c'è un problema grosso con le scorte di petrolio in questi ultimi mesi ragazzi causato dal fatto che c'è il problema del virus, quindi la produzione ragazzi si è fermata nel mondo anche da questo potete immaginare, comprendere come in effetti la scommessa tra virgolette di Wall Street dovuta ai rialzi degli ultimi due o tre settimane sia una scommessa un po' forza eccessiva, un po' causata appunto da queste forze monetarie che si sono messe in gioco ma poi in effetti ragazzi una commodia del petrolio ci indica in maniera rigida, dura che la produzione si è bloccata di mezzo al pianeta ragazzi perché il petrolio non viene consumato non venendo consumato il petrolio ragazzi non si sa dove metterlo perché i depositi, le scorte che dovrebbero diciamo detenere le scorte sono pieni, sono pieni quindi nessuno sa dove mettere i barili ragazzi a parte che in ogni caso il petrolio con il passare del tempo subisce l'evaporazione quindi si rovina come materia prima, non può essere mantenuta per tanto tanto tempo e quindi ragazzi in sostanza siccome gli estrattori non si vogliono fermare di petrolio perché magari c'è un costo superiore per fermarli e riattivarli vi pagano se vi comprate il petrolio e ve lo tenete a casa vostra questo problema del rollover ci porta anche a farci capire ragazzi siccome l'investimento sul petrolio sia estremamente complesso da fare e non alla portata di tutti ma come sempre accade quando uno strumento finanziario collassa e crolla ragazzi quello che accade è che tutti si risvegliano con il famosissimo bias finanziario che abbiamo quando vediamo un prezzo che crolla, che va giù, compro a sconto ancora una volta ragazzi vi trovo qui a parlare sul canale di questa problematica problematica che in linea di massima ragazzi credo sia stata una cosa che da sempre esiste nel mondo ne ho parlato tantissimo del famoso compro a sconto io sono convinto nel 1929 in America ragazzi tra una passeggiata tra Al Capone e Iliott Ness c'era qualcuno che gli diceva sicuramente anche a loro compriamo a sconto Iliott compriamo a sconto perché il mercato è crollato vabbè scherzi a parte ovviamente un po' per sdrammatizzare ragazzi questo problema del comprare a sconto si chiama strategia by the dips ed è una strategia estremamente complessa nel mio corso di formazione come fare trading it's trading time trovate il link in descrizione ragazzi parlo proprio di una metodologia per fare questa cosa qui questa strategia perché non è facile ragazzi in questo corso io parlo solo di metodi e insegno un metodo di ragionamento in modo tale che voi possiate anche imparare la vostra strategia assumerla, plasmarla secondo quello che sono le vostre conoscenze quindi è un metodo ragazzi per cui appunto è imparare a pescare non è il pesce servito in tavolo ma questa strategia l'ho voluta appunto spulciare proprio perché so che è una strategia che piace a molti trader e insegno appunto nel modulo operativo di questo corso proprio come ragionare con questa strategia ed è una cosa che ci tenevo a spiegare come si fa e come potete limitare al massimo i vostri rischi oggi affronteremo un po' questa cosa vi farò vedere sui grafici come ragionare se volete provare il compro a sconto l'erano di moltissimi mi hanno scritto che volevano acquistare l'etf del petrolio intanto ragazzi come vi ho già spiegato il petrolio è la commodity più manipolata del mondo e su questo penso non ci sia nessuno che mi possa dire il contrario perché è manipolata pesantemente da grandi poteri, grandi forze da politica, dai sistemi economici e quant'altro poi risponde chiaramente a quello che è i processi produttivi in questo caso la produzione mondiale è crollata il petrolio non si consuma più ragazzi se io volessi comprare comunque uno strumento finanziario così complesso così manipolato usare l'etf ragazzi e tc in questo caso sarebbe estremamente difficile perché subiscono questo effetto che si chiama effetto contango questo effetto ragazzi è proprio dovuto al fatto che una commodity quando scade il future bisogna passare al future successivo e ci sono dei costi relativamente al petrolio ragazzi ci sono i costi del deposito cioè lo dovete detenere il petrolio da qualche parte poi evapora, si consuma e insomma in un modo o nell'altro ragazzi questa commodity è un po' difficile per un investimento di lungo periodo quindi sconsiglio ovviamente l'acquisto di un etf che è gravato da questo effetto che si chiama effetto contango ragazzi potete utilizzare il CFD per fare speculazioni sul prezzo della commodity oppure potete utilizzare appunto il future tenendo presente che lo dovete chiudere prima del rollover perché avete visto cosa succede nel momento in cui voi fate trading in questo caso così di speculazione da qui a una settimana, due ragazzi non potete fare un investimento di lungo periodo sul petrolio però c'è anche un altro modo allora se io volessi fare un investimento di lungo periodo sul petrolio posso andare a cercare delle stocks cioè delle azioni che fanno il loro utile utilizzando la commodity del petrolio quindi mi riferisco alle azioni, alle stocks più importanti relative al mondo dell'energia oggi andiamo sui grafici e cerchiamo di capire se è il momento giusto di entrare a comprare queste azioni e vi faccio anche capire più o meno il mio ragionamento prudenziale in questo caso com'è quindi oggi andiamo a vedere due stocks ragazzi un'americana e l'altra italiana perché noi che siamo italiani abbiamo molto a cuore questa stocks che in particolar modo ci teniamo perché è una delle più importanti della nostra economia ma è anche ragazzi un baluardo, un riferimento di quello che è la nostro indice Fuzzimib Italia spostiamoci sui grafici guardiamo questi due titoli è il momento di comprare si può comprare a sconto? sì o no? guardiamolo sui grafici io vi ringrazio come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ora mi tocca ragazzi siamo sui grafici andiamo subito al sodo questa è la stocks che vi avevo promesso che volevo farvi vedere oggi ed è la prima l'altra, quella italiana la vedremo tra un poco allora Ixon è una stocks che si occupa ovviamente di petrolio ragazzi energia americana una super multinazionale gigantesca famosissima ok questo è quello che è successo a questa stocks mi metto un grafico a versione settimanale così possiamo andare indietro nel tempo e capire il disagio ragazzi del momento vedete però ragazzi vediamo anche come è messa questa azione ovviamente queste sono quotazioni ragazzi che risalgono agli anni 70 guardate che meraviglioso trend rialzista ma guardate anche quello che è successo in questa fase di ribasso ragazzi e come questo momento storico sia unico addirittura ragazzi perché va a rompere un trend in pratica che era long da tantissimo tempo ragazzi ok questo è diciamo il trend in questione di Ixon era un trend che era long dal 1974 ragazzi questo break è stato un break fondamentale insomma importantissimo che è andato a rompere un trend gigantesco un trend di lunghissimo periodo di questo di questo titolo perché perché ovviamente il petrolio e la stocks in questione la commodity in questione scusate è crollato allora andiamo a capire questa è uno strumento finanziario ragazzi molto ghiotto perché è una ottima azienda che ha diciamo dalle spalle avete visto 50 anni di crescita economica ha anche degli indicatori di bilancio notevolmente importanti vi faccio vedere giusto a titolo informativo anche il rendimento del dividendo vedete l'8% a questi prezzi ragazzi come sempre i miei disegni sono terribili vedete l'8% a questi prezzi ma sappiamo anche bene che probabilmente non sarà questo il dividendo distribuito da Ixon il prossimo anno questo è ovvio quindi ragazzi purtroppo come sempre i dati relativi all'analisi fondamentale lasciano il tempo che trovano perché sono quelli dello scorso anno quindi molto più importante come il management gestirà questa fase piuttosto che i dati di bilancio che in questo caso non servono assolutamente a niente in quanto non sono comprensivi di questa fase della pandemia di questo crollo del petrolio allora andiamo a guardare invece i grafici che non mentono mai e andiamo a vedere quello che sta succedendo a questa stocks è il momento di comprare c'è un super supporto che è qui a 30 dollari appunto che era quello del luglio del ragazzi 2002 quindi un ribasso incredibile perché questo titolo è ritornato indietro di 20 anni in pratica ragazzi è ritornato indietro quasi di 20 anni perché è ritornato in minimi del 2002 mentre qual è il livello di resistenza di questa super barra di congestione chi sa un po' di trading ragazzi che ha studiato chi ha fatto formazione sa che il titolo in questione ha fatto un break fondamentale di una barra di congestione lunghissima che potrebbe essere anche indicativa di un'inversione di lungo periodo ci dice che questo titolo con questo break qui è il break che vi ho fatto vedere prima della trendline ha rotto i livelli di supporto di una trend di lunghissimo periodo 30 anni circa e che quindi se noi accompriamo una stocks di questo tipo ragazzi dovete ricordarvi che state comprando una stocks che ha dato un'indicazione sui prezzi di un break di un trend di 30 anni quindi tecnicamente potrebbe scendere per i prossimi 10 anni ragazzi non ci sarebbe niente di strano ovviamente ragionando un po' anche utilizzando l'analisi fondamentale il fatto che magari in questo momento questo prezzo è stato così basso per via del petrolio potremmo anche dire ok però io in questo momento posso comprare a un prezzo che sta non dico immaginando il fallimento dell'azienda però sta immaginando seri problemi gravissimi problemi per un'azienda che magari sarà anche aiutata politicamente laddove dovessero esserci dei problemi sempre che l'America ragazzi continui ad essere uno stato molto forte con il suo potere politico anche importante sul petrolio cosa che in questo momento non sta dimostrando a dire la verità quindi attenzione a considerare il passato come sempre la lanterna che illumina il futuro perché non è sempre così da un punto di vista di prezzo in questo momento il titolo invece ha una possibilità di fare trading in questo momento immaginando ragazzi questa cosa molto semplice che è questo minimo che vedete in questione sul daily sia un minimo che regga quindi 38.80 allora io faccio il mio long mi posiziono per esempio qui considerando appunto tutto quello che abbiamo visto che sono rischiosamente contro trend di lungo periodo che sto investendo più che altro sul petrolio perché è sceso tantissimo ho avuto delle situazioni terribili in questo momento quindi io compro qui però attenzione che posso fare due cose allora se il mercato se la la stock section va sotto 38.90 e ci chiude quindi va qua sotto ragazzi qui a questo punto io rischio che il mercato vada a fare questa gamba ribassista sotto questo minimo quindi questo dovete saperlo dove potrebbe andare al di sotto di questo minimo vi faccio vedere giusto per capire al di sotto di questo minimo ragazzi il livello successivo reale di supporto quello grossissimo è addirittura a metà prezzo ragazzi 17 dollari poi ci sono una serie di livelli intermedi che sono un po' più piccolini che vedete qui poi il mercato i ragazzi quando vanno in panico agiscono di pancia e quindi è pericoloso perché potreste vedere questo strumento rompere i 30 dollari e iniziare a collassare a bucare tutto qui e magari a fermarsi a 20 dollari voi dite ah ma io aspetto un lungo periodo ancora con questa storia ragazzi per recuperare una perdita del 50% su una stocks e ci vogliono anni ragazzi quindi dovete stare sul groppone con il capitale fermo con il mal di pancia con il magone c'è un capitale psicologico che dovete considerare quindi attenzione a ragionare così perché sulla carta sembra facile ragazzi ma quando siete trader veramente da anni e avete esperienza sulle spalle sapete bene che ragionare in questo modo non è assolutamente così facile poi quando siete dentro e quindi attenzione a dire io poi la tengo per anni perché non è così semplice passiamo alla Italia l'Italia con la sua super azione Eni vi faccio vedere che il trend per quanto riguarda Eni è fortemente negativo andiamo a vedere c'è stata un'inversione per quanto riguarda Eni tra l'altro anche qui ragazzi abbiamo dividendi altissimi ve li faccio vedere giusto a titolo velocissimo 10% se continuerà a dare dividendi non è a dei fondamentali molto soliti come quella che abbiamo visto prima come Exxon a livello grafico il titolo ha toccato un minimo di 6 euro che vedete qui poi ha rimbalzato addirittura quasi raddoppiando è arrivata a 10 euro l'altro giorno quindi il 2 aprile è iniziato diciamo questa sua fase allora la reazione è stata fortissima ma è anche andata a chiudere questo gap che vedete qui quindi da un punto di vista tecnico bisogna starsi attenti perché in realtà questa configurazione di rottura al ribasso recupero e chiusura del gap prevede una nuova gamba ribassista con la solita forma dell'ABC che è una forma di analisi tecnica molto comune in questo tipo di ambiti quindi potrebbe accadere questo in questa frangente qui potreste tentare la famosa dollar cost average fermo restando che però ragazzi se si va giù di 6 dollari di 6 euro scusate poi bisogna andare in stop loss perché questo titolo è pericolosissimo a quel punto ricordatevi che il 23 c'è la riunione dell'Europa e insomma sarà importantissimo anche per le sorti della nostro strumento Eni che insomma non è messo benissimo anche oggi perde il 4% quindi se dovessi dire insomma le stocks del petrolio Exxon è meglio in questo caso di Eni sono fortemente difficili da gestire questi in questi momenti queste stocks ragazzi andateci con i piedi di piombo vi ricordo che il trading è estremamente rischioso e se fate delle cose del genere dovete avere formazione alle spalle a prescindere ragazzi noi ci rivediamo nel prossimo video lasciatemi un pollice nel su se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale ciao a tutti